salve a tutti oggi vedremo come realizzare su autocad questo gomito a 90 gradi innanzitutto andrò a creare questa parte curva 90 gradi andando a realizzare una polilinea e successivamente con il comando sweep da due cerchi ricaverò tutta la parte curva quindi avvio autocad clicco su inizia disegno disattivo la griglia e attivo orto cambio la vista spostandomi da alto in una vista laterale quindi seleziono sinistra attivo il comando linea clicco in un punto a caso scendo di 150 mi sposto verso destra di 260 ossia del raggio e scendo di 260 ho creato così vari punti da sfruttare per realizzare una polilinea la polilinea la facciamo di un altro colore seleziono il rosso clicco sul comando polilinea sempre nella scheda disegna la polilinea ovviamente inizia in questo punto continua fino a questo punto adesso devo creare un arco quindi polilinea specificare punto successivo oppure arco l'arco termina in questo punto adesso devo fare una linea quindi andrò nella barra di comando cliccherò nuovamente su linea mi sposto verso destra e questa parte lunga nuovamente 150 invio quindi quella rossa che vediamo qui è la nostra polilinea le linee bianche sono quelle disegnate in precedenza devo cancellarle quindi queste due sono ben visibili e le cancello qui sotto so che ce n'è un'altra bianca che però non vedo quindi cosa faccio prendo la polilinea tasto destro ordine di visualizzazione porta dietro adesso la linea bianca è passata davanti la seleziono e la cancello in alternativa potevo semplicemente spostare la polilinea un po più a destra un po più a sinistra e la linea bianca sarebbe uscita fuori potevo semplicemente cancellarla però era un modo per farvi vedere anche questa funzionalità di autocad allora arrivati in questo punto mi sposto in una vista assonometrica quindi mi sposto su s o assonometrico dovrò disegnare semplicemente dei cerchi andiamo a vedere sul nostro disegno uno con diametro praticamente 2 290 e uno con diametro 210 quindi io torno su autocad però devo cambiare l'inclinazione di questi cerchi cioè l'orientamento di questi cerchi io che cosa faccio clicco sugli assi seleziono l'asse z e lo sposto verso l'altro ovviamente questa operazione fatela sempre con orto attivo comando cerchio centro diametro anzi prima cambiamo magari il colore mettiamo nuovamente quello da layer comando cerchio centro diametro clicco in questo punto abbiamo detto diametro 210 e quello più piccolo cerchio centro diametro clicco di nuovo in questo punto 290 perfetto siamo pronti ad utilizzare il comando sweep il comando sweep funziona come il comando estrudi solo che segue una traiettoria che può essere definita ad esempio da questa polilinea quindi io scrivo sweep mi chiede di selezionare gli oggetti di cui eseguire lo sweep ovviamente sono questo e questo premio invio il percorso sarà definito da questa polilinea quindi mi basta cliccare su e ho creato questa parte a 90 gradi ovviamente la polilinea è già sparita in più sono due si capisce bene che sono un solido e un altro solido sono due solidi uno dentro l'altro non farò sottrae adesso lo farò successivamente imposto la modalità realistico per mostrarvi ciò che abbiamo fatto sono due solidi uno dentro l'altro ritorno su wireframe allora adesso cambierò la vista spostandomi in una vista dall'alto per poter realizzare questa parte mi è più comodo realizzarlo in maniera bidimensionale e poi estruderlo e con il comando sottrai andare a creare questa flangia quadrata che andrò a posizionare in questo punto qui sopra poi ne creerò una copia che ruoterò e andrò a posizionare qui quindi torno su autocad mi sposto da esso assonometrico passo la vista dall'alto comando polilinea clicco in un punto a caso questa flangia quadrata a dimensioni 360 ovviamente per 360 essendo a base quadrata devo trovare il centro di questi fori so che sono a distanza 50 quindi andrò a fare un offset di questa polilinea all'interno a distanza 50 quindi offset 50 invio seleziono questo e clicco all'interno questi quattro spigoli rappresentano il centro dei vari cerchi vari cerchi che hanno misure che sono indicate qui 4 per diametro 60 4 per diametro 30 quindi torno su autocad cerchio centro diametro clicco in questo punto 60 cerchio centro diametro clicco in questo punto nuovamente 30 senza ripetere questa operazione quattro volte andrò ad utilizzare il comando copia o più nello specifico copia selezione copia seleziono questi due premo invio il punto base è questo e vado a fare una copia due copie e tre copie premo esc per uscire dal comando una volta effettuata questa operazione posso già cancellare questa parte la flangia a questi spigoli raccordati con raggio 20 quindi cosa andrò a fare andrò a creare un raccordo con raggio 20 quindi raccorda clicco sul raggio il raggio di raccordo 20 invio e vado a raccordare tutti e quattro gli spigoli ovviamente con la barra spaziatrice ripeto il comando perfetto adesso possiamo tornare nella vista assonometrica su dove sta assonometrico non devo creare regioni perché questo l'ho disegnato con polilinea quindi se lo disegnate con linea dovete creare la regione di questo perimetro di tutta quest'area prossimo comando estrudi seleziono tutta questa parte esterna e i cerchi più piccoli invio scendo verso il basso di questo valore qui 50 che leggo qui o anche qui quindi verso il basso di 50 barra spaziatrice per ripetere il comando estrudi seleziono 1 2 3 e 4 cerchi primo invio sempre verso il basso beh in questo caso non sono passanti ma hanno una profondità di 10 lo leggo di qui quindi vado verso il basso di 10 è ovvio che adesso sono tutti solidi diciamo uno all'interno dell'altro quindi devo attivare il comando sottrai da questa invio voglio sottrarre questi otto cilindri perfetto premerò invio per confermare realistico questa è la flange che abbiamo appena creato a base quadrata torno in wireframe perché mi devo preparare a posizionare correttamente questa flange nella parte superiore allora cambio colore linea rossa comando linea faccio una linea che va da questo punto centrale a quest'altro seleziono tutto questo tasto destro sposta come punto base prenderò il punto centrale di questa linea mi collego nello snap centro qui sopra la linea possiamo già cancellare andiamo a fare una copia di questo solido quindi ci clicco su tasto destro copia selezione lo prendo da un punto a caso e lo sposto qui primo esc per uscire dal comando ovviamente questo dovrò ruotarlo di 90 gradi per poterlo ruotare disattivo il wireframe è imposto la modalità realistico clicco sull'oggetto se non vi esce direttamente questa figura con gli assi probabilmente vi usciranno le frecce per spostarlo cliccate con il tasto destro e selezionate ruota selezionerò ovviamente l'asse rosso come asse di rotazione sempre con orto attivo e quindi lo ruoto di 90 gradi e clicco con il mouse tolgo nuovamente il realistico ripeto la stessa operazione che ho fatto prima quindi linea rossa da punto centrale a punto centrale seleziono il solido tasto destro sposta lo prendo dal punto centrale della linea rossa e lo faccio coincidere con questo punto linea rossa che posso opportunamente cancellare andiamo un attimo in modalità realistico questo è ciò che abbiamo creato adesso non ci resta che andare a sottrarre questa parte qui a questi tre solidi che abbiamo creato uno, due e questo qui quindi wireframe sottrai il comando sottrai lo ricordiamo chiede di selezionare gli oggetti ovviamente dobbiamo selezionare prima gli oggetti da cui sottrarre quindi gli oggetti da cui sottrarre sono questo questo e questo invio gli oggetti da sottrarre questo invio realistico e vediamo che è forato togliamo il realistico rimettiamo il wireframe togliamo la vista personalizzata spostiamoci di nuovo in SO a sonometrico e torniamo ad osservare il nostro disegno in questo caso sembra complito ma in realtà dobbiamo aggiungere dei particolari come ad esempio qua c'è una cimatura a distanza 10 anche qui quindi dobbiamo fare cima spigolo due volte e dobbiamo andare a raccordare qui sotto con raggio 10 quindi raccorda spigolo e raccorda spigolo quindi raggio 10 e distanza 10 per la cimatura invece quindi torniamo su autocad scriverò semplicemente cima vado a prendere ovviamente cima spigolo e devo andare a modificare la distanza quindi cliccherò su distanza la prima distanza è 10 di base impostata a 1 e non va bene invio seconda distanza di base impostata a 1 e non va bene quindi imposto 10 invio adesso posso selezionare questo spigolo non vado a fare anche questo perché probabilmente non sono sulla stessa faccia quindi non mi permette di fare questa operazione insieme quindi lo faccio uno per volta invio per accettare l'anteprima nuovamente invio barra spaziatrice seleziono questo spigolo doppio invio e abbiamo vedete cimato questo e questo spigolo adesso semplicemente andremo a raccordare altri due spigoli quindi in questo caso scriverò racc raccorda spigolo anche in questo caso il raggio di raccordo è 1 non va bene dobbiamo cliccare sul raggio impostare 10 e premiamo invio allora io vi consiglio in questo caso di muovervi con orbita libera mettervi in maniera un po' più comoda qua si vede meglio lo spigolo questo qui è quello da raccordare premio ESC seleziono lo spigolo e già mi ha fatto questo raccordo premo nuovamente invio si aggiorna nuovamente invio e accetto il raccordo mi sposto mi sposto ulteriormente con orbita libera ecco questa è comoda questa vista ecco qua lo spigolo da raccordare primo ESC raccorda spigolo in questo caso non vado a impostare raggio 10 perché lo leggo qui è già impostato abbiamo fatto poco fa e vado a selezionare questo qui invio invio ovviamente in wireframe non è chiarissimo ciò che abbiamo realizzato però se noi andiamo ad impostare la modalità realistico magari ci cambiamo anche il colore facciamo effetto l'ottone questo possiamo osservare benissimo vedete come si vede il raccordo qui e il raccordo qui la lavorazione di lamatura e il foro da questa parte la cimatura da una parte e dall'altra beh questo è il nostro gomito a 90 gradi completo per rimanere aggiornati iscrivetevi al canale e continuate a seguire i miei video